E salve a tutti amici cooperiani e bentornati su Escape from Tarkov Sembra troppo bello per essere un ritorno su escape E si infatti è troppo bello per essere un ritorno su escape E nulla insomma allora Giusto per dirvelo subito Sto giocando in offline mod Perché è l'unico L'unico modo che io riesco a giocare Per riuscirci a giocare E allora guarda un secondo qua Se ci fosse perché non lo posso aprire Non ho le chiavi Perché di solito tipo spunta fuori un'arma Va bene Allora faccio questo video Per parlarvi del problema di desync Che ho Che ho capito che cosa è E Boh vediamo Parlarvi magari di altre cose del canale Vediamo un pochettino Perché avevo già fatto altri video Ma così senza me Che parlavo E quindi Nulla Senza me che parlavo Niente di speciale Quindi insomma almeno Vi parlavo senza distrarmi Però preferivo Parlarvi mentre gioco Comunque Allora Andiamo subito al punto di questo video Che alla fine è per spiegarvi Solo il problema di Il mio problema di desync Perché c'è questo problema Blablabla Tutto è grazie alla mia connessione E ai server di merda Di questo gioco In sostanza Perché Praticamente I server Ti utilizzano un sacco di banda Della tua connessione E quindi Provoca il desync Il lag Eccetera Perché ho fatto una prova Con la mia connessione Normale Senza nulla Andava bene Come va sempre Mentre Appena entrato in gioco Iniziò a giocare Un pochettino Ho fatto partire Di nuovo lo speed test Avevo 300 di ping 0.3 In download E 0.1 In upload Quindi mi utilizza Cioè praticamente Mi ciuccia Tutta la connessione E non so perché Cioè Io non capisco Il loro sistema di server Quando potrebbero Benissimo Fare un browser Come ci sono In tutti i giochi E Fare Insomma Inventarsi un qualcosa Di diverso Dai server Che Quando era la O Che tipo qua Durano forse 40 minuti E in 40 minuti Devo scappare Non so come mai Però in 40 minuti Di solito sono 120 Va bene Mi è cascato Il microfono Ok E E quindi nulla E Ho perso il discorso Per colpa Il del microfono Porca puttana Che stavo dicendo Niente Ma lo sapete Che ci ho pensato Per mezz'ora E Cioè Sono appena tornato dal lavoro E C'ho la mente fusa E quindi niente Non so come era arrivata Il discorso Dei 40 minuti Insomma Magari ve lo continuo Con una scritta Allora Comunque Sì Mi ciuccia Tutta la connessione E niente Per questo Ci sono quelli Che magari Nei commenti Scrivono Che non hanno Problemi Perché Anche tutti I miei compagni Con cui gioco Che loro Hanno una 100 mega Non hanno nessun problema Perché giustamente Comunque Gli ne ciuccia Diversa Ma Insomma Ha una connessione Ha un'ottima connessione Quindi insomma Non ha Non vede nessuna Nessuna differenza Mentre io la differenza Ce l'ho Perché poi Mi ricordo che una volta Che Giocando Con un mio amico Che gli dicevo Tipo di girarsi Lo vedevo che si girava subito E Si girava subito E nulla Io invece Non ero dietro Quindi sì È un problema mio Proprio perché Mi ciuccia tutto Tutto quanto Però io so pure che C'è stato l'aggiornamento Che doveva Fixare Il The sink Ora Il L'aggiornamento Che è uscito Era un aggiornamento Parziale Non era quello Completo Da quello che so A fine mesi Dovrebbe uscire Proprio quello Completo Infatti Forse non credo Che hanno Fixato L'uso Della banda Di connessione Quindi Può essere Che Per adesso Insomma Per adesso è così Poi a fine mese Quando c'è l'aggiornamento Quello proprio Vero e proprio Perché adesso Sono stati 500 mega Di aggiornamento Allora Non erano un cazzo Quelli di adesso Insomma Quindi Aspettiamo A fine mese Se esce veramente A fine mese E Vediamo un po' Che cosa succede Perché Se Con il prossimo Aggiornamento Io vedo Che ho ancora Dei problemi Inizio a parlare Un po' Con questi dev Perché sono famoso Tra di loro Perché gli rompo Sempre il cazzo Soprattutto su facebook Dicendogli Ma avete rotto Un po' i coglioni Perché qua C'è sempre Lo stesso problema E perché Voi Continuate a pensare Di aggiungere Le cose In questo gioco Quando Con tutti i soldi Che vi sei dato Potreste Fare dei server Migliori Come dei ragazzi Che sul gruppo Nostro Di escape Hanno scritto Che Sono Hanno preso I server Dal mercatino Dell'usato Per pian piano Passare a quelli Della cop E quindi Per adesso Siamo messi così Comunque Parlando Dell'aggiornamento Può essere Che magari Questa era la cosa Di cui era arrivata I 40 minuti Comunque Parlando Dell'aggiornamento Allora Hanno aggiunto Più zone Di scav Ora qui Non ne vedo Nemmeno uno Però credo Che più avanti Ce ne siano di più Insomma Hanno aggiunto Più zone Di scav Hanno aggiunto Che cosa Hanno aggiunto Questa modalità Che quando io Mi voglio Abbassare Dov'è Abbassati Se Tengo premuto C E faccio Con la rotellina Vedete che a sinistra Va Per diverse altezze Quindi insomma C'è proprio il passo Basso Poi un pochettino E così via Poi Non so Come andare Nella modalità Che siamo Dietro A un coso Qui E Tipo Dietro una copertura E a sparare Da sopra Cioè Vi avevo visto Un coso Del gamescon Dove loro erano Dietro A un muricciolo E loro sparavano Tipo A modi GTA Con la mano Insomma Con l'arma Sopra Che non vedono Un cazzo E sparano E sparano Pa 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 Comunque ora Vorrei magari Uccidere qualcuno Purtroppo Per adesso Devo giocare Offline Ve l'ho detto E Vabbè Cioè Comunque Per ora È così È così Non posso Farci nulla Io Eh Paura 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 Che cazzo Cioè io stavo parlando Ok Allora Mi sono dimenticato di togliere Vabbè Amico Se n'è andato Scomparso Allora Hello Ma friend E' qui dietro Me lo sento Me lo sento Me lo sento Dove 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 E non lo vedo Ma che cazzo Pure sti scav Madonna ma guarda te Guarda te Sono dovuto andare Su factory Perché Sinceramente c'è più azione E Ho pure perso Il filo del discorso Dio santo Dell'aggiornamento Stavo parlando Dell'aggiornamento Punti di scav Ah si Il fatto che Per adesso Devo Per forza Giocare In offline mod Fino a che Non fixeranno Questa cosa Nella speranza Che la fixino Veramente Poi si Stavo parlando Della connessione Ecco Ora mi è tornato In mente Però c'è quello Che dice Cicchi brechi E io ti posso parlare Che non mi ricordo più No Con Y Ehm Y ci sono Gli comandi Strani Scusami I Mamma Zoccolai Dove sei Dove C'è il barbatrucco No Oddio Ce l'avevo Nissing Ok Quindi insomma Allora Dicevo Che Per adesso Sono impelagato Con questa Connessione Di merda Perché a quanto pare Tutti i tecnici Dicono che Nella mia zona C'è una connessione Insomma Un coso del cazzo E non possono farci nulla Perché anche se metto La La cosa La 20 mega Va di merda E la cosa più bella È che nel paesino A dieci A dieci minuti Da me A dieci minuti A Sì In macchina Non a piedi A piedi Sarebbe Bello Dieci minuti In macchina Anche meno di dieci minuti C'è la 100 mega Che funziona Da Dio Quindi io mi chiedo Perché brutti figli Di puttana Del comune Non volete mettere La cazzo di fibra Pure nel paese Dove Abito io C'è Iiibo Che cazzo P Ancora in singolo Ora si rimette in full auto È bello sta cosa È vero È dell'aggiornamento Che Finalmente ci dice Se siamo in singolo In auto O in moto Hihihi Comunque niente Non ho Molto da dire Ma perché non c'è nessuno Che quando ho fatto Un'altra partita Era pieno di gente Dio santo Che ho fatto una partita In offline mode Qualche giorno fa Dio santo Ovunque andavo C'erano scav Ora non c'era nemmeno uno C'è quello lì Che Dove siete Perché non c'è più nessuno Ma se tipo adesso Qua Ci si salta Sì dai Si può fare Comunque Ehm Purtroppo Mi dispiace Che il video di rainbow Non sia andato bene Mi aspettavo Andasse un po' meglio Invece è andato Non bene Ma proprio di merda È stato schifo È andato malissimo Però vabbè Proprio male Ma male Ma proprio Mai successo Nella storia Di questo canale Però vabbè Sarai il primo E i prossimi Andranno sempre male Quindi Che bene Sono contento Bibi Bibi Comunque Sarebbe bello Ritornare a fare Video su escape Come prima Da una parte Perché comunque È proprio Il gioco Con cui è nato Il canale E Proprio Cioè I video di escape Sono gli unici Che vanno Da di Insomma Come dovrebbero Andare Insomma E quindi Beh Beh Però Nulla Cioè Per adesso È così Quindi la mia vita Fa schifo Sono depresso Fa un culo Mi lancio dal balcone Però non è possibile Abbiamo aggiunto Punti di spawn Di scavo Ovunque E ne ho trovato Solo uno Uno Dove sono Dove siete Madonna Di richiamo Dove siete Venite Nessuno Oh Manco uno scav Che parlasse Com'è che si parla Non me lo ricordo Cos'è No Vabbè Vieni Vieni Ermo Ciao Bu 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 Però questo è più bello Abangulo Help Command Ah ok Quindi Cioè Questi non funzionano Funzionano solo Command Stop Command Knife Oh Silence Ok Vabbè Mi sono divertito Abbastanza Ah si Poi hanno aggiunto Le Le missioni Qualche missione No Che carino Lui Fega Fra Che ovviamente Non posso mettere Nessuna parte Però io lutto Almeno faccio Qualcosa Perché a camminare Non c'è nemmeno Uno scav Pezzo di merda Infame Che vita brutta Però che bisogna fare Però non ci dobbiamo abbattere Come già io lo sono Di già E niente Sono depresso Depresso Mi ammazzo Addio Grazie 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 Grazie